Allora, ecco trovato l'inghippo. Questo pezzo è composto dal perno di attacco del gancio, vedete l'attacco a bionetta del gancio, che tramite questa ruota dentata prende il movimento all'interno di questa altra ruota dentata più grande. Tutto ruota all'interno di questo perno con alloggiamento, che vedete è completamente ovalizzato. Ed è questo il motivo che genera il gioco. Vedete, questo movimento qui è il motivo che genera il gioco del gancio. A questo punto una pulita e l'ideale sarebbe trovare qualcuno che mi rifà questo pezzo al tornio, mi costerebbe un mille euro, probabilmente. Vabbè, poi vedremo. Montaggio e abbiamo finito.